La gente segreto, la solita giornata qualsiasi, gli ordini scenderanno dal cielo, sempre più difficile. Viaggiatori o no? Questa poi, una nocce da un pino. Vai a cercare casa, ma io sto così bene nella mia. Qui il salone, qui, qui e qui tre bagni, là il soggiorno, qui lo studio e qui la cassaforte. Ecco, volevo ben dire. Grazie a tutti. Complimenti, Eleonora. Come sempre hai risolto tutto con grande eleganza. Sì, un'eleganza naturale e raffinata. L'eleganza di chi veste Cori. Cori, una scelta sicura per la mia eleganza. Cori, una scelta sicura per la vostra eleganza. Un'eleganza lieve, raffinata come l'ala di una farfalla. Una farfalla. Il simbolo di Cori. Cori, l'eleganza sulle ali di una farfalla.